Allora, scegliene un'altra, svelta. 96 orizzontali. 96 orizzontali? Sì, sì. Sei un po' emozionati? Sì. Allora, 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta. Eternity, Eternity. Eternity. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un ingrippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che erai Eternity la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda. L'ha fatta la domanda. No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione esatta. Mi dai una risposta? Da una giovenita. Allora, chi sei parente di qualcuno qui che non è una persona perbene? No, no, non c'è nessuna risposta, nessuna spiegazione, altro che una truffa.